Salve, sono la Francesca, sono vestita come l'altro video, perché non ho onore, oppure ho troppo onore, non voglio mentirvi, mettendomi un'altra maglietta facendo finta che sia un altro giorno. No, no ragazzi, io lavoro per voi, io faccio film video due alla volta. Oggi parliamo di film della Pixar, ho già fatto questa tipologia di video con i film della Disney, quindi mi è venuti in mente perché non li facciamo anche con la Pixar. Bruttissima idea, come vedrete subito, perché a differenza dei film della Disney che seguono magari più la struttura di fiabe, favole, strutture diciamo più tradizionali, che è più facile rimandare a dei libri, quelle della Pixar sono troppo fuori di testa. Quindi vedrete che tirate dei capelli ho fatto, ma anche che genialate ho avuto. Vedrete, vedrete. Cominciamo subito a ridere con Toy Story. Toy Story, tutta la quadrilogia diciamo che presto diventerà una pentalogia perché ne avevamo bisogno, un film che io adoro veramente, come ogni bimbo della mia età li avrò visti tantissime volte. Però se ci pensate a un concept che potrebbe essere ottimo per anche un film dell'orrore perché oggetti inanimati che quando non li guardi in verità sono animati e hanno una coscienza è molto 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 inquietante. E quindi per Toy Story è ovvio consigliare Horror Store di Grady Hendrix che come potete vedere è ambientato all'IKEA. Un'IKEA che però nasconde dei lati oscuri e che prende vita. Purtroppo non prende vita quando la gente guarda dall'altra parte. Ma tre employees di questa IKEA fittizia, di questa IKEA alternativa rimangono bloccati dentro. Questo super store svedese, ecco, rimangono qua dentro e cose strane cominciano a succedere. Quindi qui secondo me è ottimo perché ti dà quell'idea. Io l'ho studiato, l'ho studiato, si chiama il Heimlich, mi ricordo come si dice in tedesco, non mi ricordo come si dice in italiano, il perturbante. Non sono assolutamente andata a guardarlo su Google comunque. Quindi questa sensazione di qualcosa che al contempo familiare, che può essere l'IKEA, possono essere i giocattoli con cui giocavi da bambino, quindi l'infanzia, qualcosa che rimanda l'infanzia, ma che ha qualcosa che non va. Anche il perturbante ha anche gli oggetti inanimati che prendono vita, quindi anche lì ci siamo. Quindi proprio Freud ci ha messo in Toy Story, capito? Vabbè, e niente, quindi questo è un appunto romanzo horror molto divertente. Ricorda un po' proprio i film horror che si prendono anche poco sul serio così, però spaventa anche parecchio. Ed è interessante anche molto graficamente, poi prima di ogni capitolo intitolato come un mobile dell'IKEA che diventa sempre di più usano, ecco, come mobile. Cioè, questo diciamo io non lo comprerei. Comunque, niente. Quindi mi sembra proprio ottimo. Con Monsters & Co. Torniamo più a qualcosa di normale. Vi poteva andare peggio perché avevo pensato anche alla strada addirittura, però mi sono detta andiamo più sul soft. E quindi Monsters & Co. Un film che ho visto anche rivisto di recente, O Pianto. Sì. Per me, la cosa più bella di questo film, oltre, vabbè, ovviamente a spaccare da ridere, all'idea world building del mondo, dei mostri, che è allora un'industria, quella di far paura di comparire dall'armadio dei bimbi, che tra l'altro io, il teaser trailer di Monsters & Co. o che non mi ricordo in quale cassetta fosse, però prima di un film, ecco, c'era questo teaser di Monsters & Co. che a me faceva una paura perché si vedeva la porta e non riuscivano ad aprirla, quindi si vedeva loro che la muovevano, oppure una carta di credito che andava in mezzo alla porta. Però per me era la cosa più spaventosa dell'universo. Sì, comunque, il film in sé è molto carino, a parte world building, come c'è, eccetera, secondo me la cosa più bella è il rapporto tra Boo e Sally, che sono carinissimi. Quindi se vi piace, come anche a me, questa dinamica, allora vi consiglio tantissimo questo manga The Girl From The Other Side, di cui ho parlato anche nell'ultimo wrap-up, quindi forse non vi sarà nuovo. Comunque un manga carinissimo, ho letto sui primi 5, volumi su 12. Appunto, come vedete, già dalla copertina, al centro di tutto, vede questo rapporto tra un mostro, sì, un mostro maledetto, e una piccola bambina innocente. E quindi, secondo me, è ottimo. Un mostro che comunque è mostro, non è, ecco, come dire. Comunque sono volumetti che mi sono piaciuti tanto, anche se non leggete tanti manga, io ve la consiglio tanto. Arriviamo, torniamo a ridere molto, 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 con Al ricerca di Nemo. Ora, va bene ridere, però datemi voi un libro con protagonista un pesce, perché io non l'ho mai letto, a parte il primissimo libro, cioè il pesce arcobaleno, ma non mi andava qua in questa sede di consigliarvi il pesce arcobaleno. Comunque, tornando a Nemo, ho pensato a il rapporto chiave, un po' centrale del film, il rapporto tra Nemo e suo padre, Marlin. Ma comunque, un rapporto complesso di un bambino che sta crescendo, preadolescente, così, che, un rapporto che comincia, diciamo, a sfracellarsi, ecco, quando i bambini cominciano a crescere, magari si vogliono distanziare dal genitore, va bene, così. Quindi io ho pensato a un libro che, secondo me, vede come protagonista Nemo, però da grande e in terapia, ovvero Il malo scuro di Giuseppe Berto. Questo è un flusso di coscienza, o più che altro un monologo psicoanalitico, di Nemo. Nemo ha avuto problemi con suo padre, anche il protagonista di questo libro ha avuto problemi con suo padre, e ce lo vuole far sapere per 400 e bassa pagine, senza, alcune volte, mettere neanche un punto. Quindi sì, è un Nemo con molti problemi, ecco. A parte gli scherzi, se volete sapere una descrizione seria di questo libro, appunto, è un romanzo complesso, ecco, da attraversare, sia come è strutturato, sia per le tematiche, perché appunto si parla di un protagonista che soffre di attacchi di panico, attacchi di ansia, è come se parlasse al suo psicanalista, soprattutto del rapporto col padre, che ormai è morto quando il protagonista è ormai adulto e va dallo psicanalista, però anche la figura del padre morto lascia dei segni, ecco, nella psiche del protagonista. Quindi, secondo me, perfetto. Nemo in terapia, il malo scuro, veramente, è lui. Poi arriviamo agli incredibili. Anche qui avrei potuto andare sullo scontato e dirvi Renegades della Marissa Magher, che è ambientato in un mondo di supereroi, vede come protagonista i supereroi, però, ragazzi, ma secondo voi vi posso dire, in un film di supereroi, consigliarvi un libro di supereroi? No. Quindi, io dico The Eight Life, The Eight, scusate, The Eight Life, che è un mattone, una saga familiare, ambientata attraverso tutto il Novecento in Georgia. Perché sì? Niente, io ho pensato al tema della famiglia, degli incredibili, qui, perfetto. In più, negli incredibili c'è anche un po' di pregiudizio verso i supereroi, e quindi qui c'è di tutto, cioè attraversiamo Prima Guerra Mondiale, Seconda Guerra Mondiale, Guerra Fredda, qualunque cosa, cioè di pregiudizio ce n'è dove volete. E appunto si chiama The Eight Life, perché è diviso in otto parti e ognuna vede come protagonista un componente di questa famiglia, che appunto, come vi dicevo, attraversa praticamente tutta la storia, soprattutto della Georgia, che è una parte del mondo di cui io sapevo poco o niente, e ho imparato tantissimo. In più, vabbè, sono molto legata a questo libro, perché l'ho letto durante la maturità, me lo ricordo mentre studiavo, ormai tantissimo tempo fa. Fai la maturità nel 2020, stai sicuro che non te lo scorderai mai. Vabbè, quindi niente, è un libro stupendo. Veramente, a parte gli scherzi, a parte gli incredibili, di cui ha poi anche i colori, ecco il nero, il giallo, il rosso, i colori degli incredibili, io non vorrei dire, ma my mind. Però, sì, è proprio un libro bello, pieno di emozioni, vedi proprio questi personaggi crescere, sembrano proprio reali. Come sono stati costruiti è pazzesco, oltre appunto a scoprire tantissime cose nuove sulla storia, su questa parte del mondo, niente. Davvero bello. Ora arriviamo a Cars. Sì, ho dovuto saltare a Bugs Life, perché, a parte che non mi ricordo neanche perfettamente la trama, perché è da un tot che non lo rivedo, ma poi ho anche molto contro gli insetti, quindi no, andiamo avanti. E poi soprattutto l'ho voluto fare in onore della mia amica Chiara, fa numero uno di Cars nel mondo, ciao Chiara. Non ho nulla contro le macchine, nel senso fanno il loro dovere a portarmi da un punto all'altro del globo, però non ho mai letto particolari libri sulle macchine, proprio quindi ho preso l'essenza di Cars. E Cars di cosa parla? Di un pesce fuor d'acqua, cioè di una persona che aveva tutte le comodità del mondo, pensava di avere tutto dalla vita, e invece è costretto a rivalutare tutto quello che pensava della vita, inserito in un contesto più rurale, ok, più semplice, ma anche più vero. Un'analisi così di Cars, dove la vedete? E in più abbiamo anche figure paterne, figure genitoriali che rischiano di... Comunque, quindi per questo io vi propongo un romance, ovvero The Simple Wild, che è un libro che ho letto qualche mese fa, e ho trovato molto molto caruccio. E vede la nostra protagonista, che dall'America, quindi un po' dagli agi di cui ero abituata, così arriva in Alaska, in questo villaggetto sperduto dell'Alaska, dove dovrà fare i conti con la frugalità del posto, oltre che una visione completamente diversa della vita, delle cose importanti della vita, dell'amore, delle relazioni, anche perché lei arriva in Alaska per stare insieme al padre, un padre che non vede da tantissimo tempo, che lei sente come se lui l'avesse abbandonata, a tutti gli effetti, perché quando lei era piccola lei è nata in Alaska, però la madre non si trovava in questo posto, e voleva che si trasferissero, il padre non voleva, e quindi la madre e la protagonista se ne vanno in America, e lui a parte qualche telefonata, praticamente non ha più contatti con la figlia, quindi ovviamente c'è del risentimento, ma appunto bisogna fare anche i conti con il rischio della morte di questo padre, quindi si parla anche di cose molto, abbastanza pesanti, soprattutto se magari sono cose che fanno parte anche del vostro vissuto, quindi è trattato non con troppa drammaticità, nel senso che essendo più che altro un romance, c'è molta speranza, molto buon cuore, ecco non ti vuole far piangere per il gusto di far piangere, ecco ha comunque un tono speranzoso, ecco però attenti, e quindi niente, secondo me la protagonista di A Simple Wilde è Saita McQueen di un altro universo, ecco però attenti, perché l'interesse amoroso, soprattutto inizialmente, è un po' palla al piede, perché ha questa sindrome di tu non sei come le altre ragazze, nel senso che fa commenti magari sul fatto che la protagonista si trucca tanto, che è un po' viziatella, che magari si vuole vestire in un certo modo, si vuole curare, ecco lui ha un po' questa pesantezza del perché vi truccate, ma va a fan bingo, vabbè comunque niente, questo però dopo migliora un po'. Infine abbiamo veramente l'idea più geniale che mi si è venuta in mente dal 2001 a questa parte, Ratatouille, ero in conflitto, dicevo non posso parlare di Ratatouille perché non ho idea di che libro potrei consigliare, o vado sul banale, consiglio un libro sul cibo, che può essere With the Fire on High, che parla appunto di questa protagonista, che ha la passione per la cucina, quindi ci sta. Però al contempo, a parte che l'avevo già consigliato nell'altro video sui film Disney, però mi sembrava troppo ovvio, troppo scontato, io non sono ovvio, non sono scontato, non sono come le altre ragazze. Ci ho pensato un po' e poi genialata. Adesso vi dico una trama e voi dovete capire di che cosa sto parlando. Abbiamo un pesce fuor d'acqua, un outsider, che arriva in un contesto che non gli è familiare, ma che vuole, ma lui vuole, questa persona, questa protagonista vuole fare di tutto, pur di farcela in questo clima, in questo ambiente, che sicuramente gli è ostile a tutti i costi. Ci sono persone molto molto brave che gli insegneranno i segreti del mestiere, gli insegneranno come muoversi all'interno di questo mondo. È una persona appunto che viene dal niente, ma che col tempo si scoprirà che vale moltissimo e soprattutto è controllato da questa entità un po' sovrannaturale, un po' strana, che gli dà abilità incredibili che nessuno nel suo ambiente può mai avere. Ecco, e però questa cosa che si è controllata da questa entità è un po' segreta. Ora, la domanda è sto parlando di Ratatouille oppure sto parlando della guerra dei papaveri di RF Kuang? Vi do un attimo? Io non so neanche cosa dire, vi ho già detto tutto. È praticamente Ratatouille. Che altro vi devo dire? C'è un po' più di genocidio rispetto a Ratatouille, però per il resto siamo lì. Ho già parlato a lungo di questa trilogia, di quanto sia devastante, di quanto sia bella, di quanto il personaggio di Rin si è costruito in una maniera magistrale, di quanto sia doloroso, di quanto sia coinvolgente, di quanto sia interessante la mitologia, di quanto sia interessante scoprire come l'RF Kuang ha unito fantasia a fatti realmente accaduti, a storia, storia della Cina, storia del Giappone, storia dell'Europa, di tutto bellissimo. Non ho più parole per parlare di questo libro, anzi, pensavo di non averle, invece ho avuto proprio l'illuminazione. La guerra dei papaveri è ratatouille. E niente, quindi se non avete già abbandonato il video, voi che siete rimasti, che guerrieri che siete, vabbè comunque, siamo arrivati alla fine di questo delirio e quindi niente, ditemi se siete d'accordo con le mie proposte o se avete altre proposte più calzanti, anche se dubito. E quindi io, se vi piace questa tipologia, se siete appassionati i film Pixar quanto le eravate con i film Disney, allora ditemelo che sicuramente farò altre parti, anche perché dobbiamo ancora arrivare a Wall-E che è il mio film assolutamente preferito della Pixar e dovrò arrovellarmi per trovare altre similitudini, perché veramente libri con case fluttuanti non ne ho. Vabbè, comunque, se vi piace la mia faccia iscrivetevi pure, se vi piace le cavolate che ne dico molti di più su Instagram, Goodreads e TikTok come al solito sto in descrizione e noi ci vediamo alla prossima. Bye bye!